La presenza della DEM di Porretta e i sindacati metalmeccanici chiedono alla regione di promuovere subito un patto temporaneo di solidarietà con le imprese del territorio per salvare l'azienda. Giorgio Maria Leone. Il giallo della cassa integrazione alla DEM di Porretta firmata al Ministero del Lavoro il 17 giugno ma finora ancora bloccata. Col gruppo Certina i sindacati avevano concordato una proroga dell'ammortizzatore sociale di sei mesi. Se la società assicura di avere correttamente inoltrato l'istanza telematica, il Ministero del Lavoro e l'Inps si rimpallano le responsabilità e non sono bastati i contatti di queste settimane per arrivare ad una soluzione. Stanno passando i mesi, noi siamo molto preoccupati, loro sono molto frustrati e quindi è una situazione che va chiarita. In assemblea i lavoratori hanno espresso la loro esasperazione e sono intenzionati a farsi sentire con iniziative di mobilitazione. 41 di loro sono a 0 ore, 133 hanno una riduzione del 38%, perdite salariali così forti da rendere indispensabile per le famiglie ottenere in tempi rapidi l'erogazione da parte dell'Inps. Se la cassa integrazione arriva, vuol dire che il collaboratore in due mesi potrebbe anche prendere 100 euro. Quindi, insomma, sfido qui anche di poter vivere con 100 euro al mese. Dopo dieci anni di piani di ristrutturazione, l'impegno della società a recuperare fatturato è rimasto soltanto sulla carta. FIOM e FIM chiedono ora alla Regione Emilia-Romagna di promuovere subito un patto temporaneo di solidarietà con le imprese del territorio. Se c'è la volontà di salvarla l'azienda, bisogna che le aziende, di settore e non, destinino quote di lavoro all'azienda per un periodo transitorio. Un anno, due anni, facciamo un patto di solidarietà fra le aziende, la Regione e le istituzioni tutte, per un piano di rilancio dell'azienda. Dopo l'anno si va a consuntivo e vediamo. Perché, ripeto, l'azienda da sola non ce la fa. Questa è un'azienda che fra sei mesi la chiudiamo. La scuderia Ferrari...